Un luogo per contemplare la bellezza della costa di Sciacca e ora anche per riflettere su argomenti sociali seri, sui quali non bisogna mai abbassare l'attenzione, come quello contro la violenza sulle donne. È il Belvedere del Fondo Bernardo, dove ieri mattina sono state inaugurate due panchine rosse, l'iniziativa di due associazioni cittadine formate da sole donne, Innerwill e Fidapa, con partner istituzionale, il comune di Sciacca, con l'assessorato alle politiche sociali. Sopra le due panchine rosse sono state collocate due targhe con i loghi delle due associazioni. In una è riportato l'appello stop alla violenza sulle donne, nell'altra una frase di Benedetto Croce «La violenza non è forza ma debolezza, nemmai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla». Presente all'inaugurazione le socie di Innerwill e Fidapa con le loro presidenti Rosalba Zito e Agnese Sinagra. Una iniziativa che è stata realizzata ieri a causa delle piogge dei giorni scorsi e che si lega alla ricorrenza già celebrata del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. In un luogo simbolo della città, dice l'assessore alle politiche sociali Agnese Sinagra, abbiamo voluto inserire un altro simbolo che richiama subito l'attenzione alla crude e triste realtà, a una questione grave, molto sentita e purtroppo molto attuale, contro la quale occorre l'impegno e l'azione costante di istituzioni e associazioni cittadini, anche con iniziative come quella promossa ieri. L'area di fondo per Narto adesso coniugherà l'aspetto contemplativo con quello riflessivo. Ogni giorno le due panchine rosse, in grande evidenza, rammenteranno ai frequentatori l'attualità della violenza sulle donne e l'urgenza di intervenire con ogni mezzo, anche quello culturale. L'iniziativa di ieri, conclude l'assessore Sinagra, è servita anche a focalizzare l'attenzione di associazioni e club service verso la formulazione di proposte per il recupero e l'arricchimento di luoghi simbolo della città.